Doveva essere una semplice conferenza stampa organizzata per mettere in luce la situazione critica degli impianti di risalita e pratitivo che da anni soffrono particolari difficoltà soprattutto d'inverno. Tuttavia l'incontro si è trasformato in un vero e proprio confronto diretto tra tutte le parti coinvolte, inclusi gli enti locali, gli operatori turistici e il gestore. Le tensioni palpabili sin dall'inizio sono scaturite dalla frustrazione diffusa per una problematica irrisolta che incide non solo sull'economia locale ma anche sul potenziale turistico della zona. Dopo un acceso scambio di opinioni e accuse è emersa però una volontà comune provare a salvare la stagione invernale in arrivo. Tutti i presenti hanno concordato sull'urgenza di attivare le misure necessarie per riavviare gli impianti di risalita prima che la stagione sciistica venga compromessa. In questa ottica la prossima settimana si terrà un tavolo di lavoro per fare il punto e delineare le procedure utili a riattivare gli impianti. La cosa forse positiva di questa vicenda è che c'eravamo tutti e questo già è un segnale. Io mi sono fatto promotore di questa iniziativa e sono contento perché volevo che si accendessero i riflettori sui pratitivo per lo meno che non venissero spenti. L'impegno c'è da parte di tutti, ora bisogna vedere fattualmente come questa cosa possa avere un seguito. L'obiettivo è chiaro, accelerare i tempi burocratici e trovare soluzioni concrete per garantire ai pratiti una stagione sciistica che fino ad oggi sembrava seriamente a rischio. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto alla Marco Finori, gli altri parlano tantissimo ma purtroppo non fanno nulla. C'è una convenzione, la seggio cabinovia è della provincia, le revisioni speciali le ha sempre fatte la provincia anche negli altri impianti. C'è una custodia giudiziare dove noi non possiamo generare debiti, quindi questa è una cosa anche importante e soprattutto la provincia deve rispettare la convenzione che ha firmato con la Gran Sasso Terramano. Noi oggi, la Marco Finori e Marco Finori come custode si sostituisce alla Gran Sasso Terramano per legge. La provincia questa cosa non la ascolta. Purtroppo abbiamo trovato mille interlocuzioni sia con gli avvocati sia in via più stragiudiziale. La provincia purtroppo non si è mai voluta sedere. Oggi finalmente ha dato la disponibilità a sedersi. Chi vivrà vedrà. Io ci voglio credere per ottimismo.